Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video, sono Tony Rosanero e sono qui pronto per mostrarvi questo ultimissimo completo veramente molto bello Ragazzi ringrazio Davro per questo veramente bello completo, ve lo voglio portare pure io nel canale Il completo che andremo a fare ragazzi è un completo militare Ora, tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è andare su pantaloni e mettere pantaloni calgo Una volta fatto questo ragazzi selezionate pantaloni calgo mimetici neri Una volta fatto questo ragazzi selezioniamo stivali tattici neri Come vedete Una volta fatto questo di nuovo ragazzi selezionate felpe e selezionate giacca cappuccio nero Una volta fatto questo di nuovo ragazzi selezioniamo gli occhiali hipster E selezioniamo broken hipster neri come vedete Poi una volta fatto questo ragazzi selezioniamo i guanti tattici neri Come vedete Poi una volta fatto questo ragazzi salvate il completo e andiamo al negozio di maschere Ed eccoci qua ragazzi Siamo qui al negozio di maschere Selezioniamo il negozio di maschere e mettiamo tattici Tattiche e cercate visore visione nera Come vedete Una volta fatto questo ragazzi selezioniamo il casco Ora perché il casco ragazzi Perché andiamo a fare il casco più la maschera che abbiamo selezionato Più gli occhiali indossati prima al negozio Ora selezioniamo di nuovo la maschera ragazzi Perché dobbiamo fare il glitch al telescopio Eccoci qua ragazzi pronto per fare questo bug nel telescopio Tutto quello che dovete fare ragazzi è andare nel telescopio o qualsiasi posizione Correte verso il telescopio Una volta fatto questo selezionate l'inventario subito Come vedete si è buggato e non seleziona la visione del telescopio Ora tutto quello che dobbiamo fare ragazzi è selezionare gli occhiali che abbiamo comprato nel negozio Dei vestiti Ora una volta fatto questo ragazzi usciamo dal menu inventario e camminiamo un poco E come vedete vedete si è selezionato il casco Il casco anzi la maschera con gli occhiali Una volta fatto questo ragazzi salviamo il completo E andiamo a diventare ovviamente un CEO Ora perché dobbiamo diventare un CEO Ora vi spiego la procedura ragazzi Eccoci qua e diventiamo un CEO ragazzi E una volta fatto CEO ragazzi saliamo sopra la moto E andiamo a aprire di nuovo il menu inventario Perché dobbiamo buggare il casco con il completo Quindi fatto questo ragazzi mettiamo lo stile del CEO E dobbiamo mettere subito Come vedete si stava mettendo il casco Dovete mettere fondatore come vedete Ora appena ve lo dico io mettete fondatore E subito mettiamo no E come potete vedere si è buggato il completo Il casco con gli occhiali e la maschera Veramente veramente molto epico ragazzi Un completo come si deve Bellissimo Ragazzi tutto quello che dobbiamo fare è salvare il completo E salviamo il completo Passate nel link che vi lascio in descrizione ragazzi E niente Da qui Tony Rosa Nero è tutto ragazzi Spero che questo completo veramente molto bello Vi sia piaciuto Lasciate tanti bei like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo a un prossimo video Grazie a tutti